Musica Bentornati con le consuete previsioni a cura di MeteoOne. Il vortice depressionario, che è interessato nei giorni scorsi, è ormai costretto ad arretrare sul Nord Africa, ma porterà ancora le ultime precipitazioni sulla Calabria e sulla Sicilia. L'alta pressione ha cominciato già da oggi a riconquistare i settori centro-meridionali europei. La sua protezione interesserà anche l'Italia e perdurerà per alcuni giorni, garantendo nuovamente cieli soleggiati e nebbie diffuse durante le ore notturne. Ma andiamo adesso a vedere nel dettaglio il tempo per le nostre regioni, per giovedì 22 dicembre. La giornata sarà caratterizzata da cieli sireni o poco nuvolosi. Velature più consistenti potranno coprire i cieli del Salento e del Foggiano, ma in generale sono escluse possibilità di precipitazioni. Temperature, come notiamo dalla grafica, che non subiranno grossi variazioni di rilievo. Una leggera pressione nei valori minimi. Venti in generale variabili con deboli rinforzi da est sulle coste adriatiche, ma arida calmi a poco mossi. Per il nostro consueto appuntamento con la foto del giorno, oggi ringraziamo il nostro telespettatore Antonio Nicoli per questa foto in completo stile invernale che ritrae i campi nepressi di Calimera, Lecce, completamente ghiacciati durante le prime ore del giorno. Se volete inviare la vostra foto del giorno, vi aspettiamo numerosi sulle nostre pagine Facebook di MeteoOne e Teleappula oppure alle mail che vedete in sovrimpressione. La foto migliore verrà mandata in onda nella prossima puntata. Grazie a tutti per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento. Grazie a tutti. Grazie a tutti.